Ciao a tutti, amici, fiosini, come state? Spero tutto, 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 tutto bene. Oggi andremo a fare un super monsound psichedelico e vi farò incrociare gli occhi, vi farò ipnotizzare con questo black and white, siete però, vuole là. Grazie a tutti. no no a presto No Sì, non è vero, non è vero. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.